Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Tempi e risorse certi per il fiume Misa, l'assessore regionale Angelo Sciapichetti che mercoledì pomeriggio ha preso parte alla commissione consigliaria e chiesta dal sindaco Maurizio Mangiarardi per fare il punto sullo stato degli interventi, presenti a futuri per la tutela del fiume, ha confermato i 18 milioni di euro stanziati per il fiume più attenzionato delle marche e che serviranno non solo per il consolidamento degli argini ma anche per la realizzazione delle vasche di espansione. Presenti in aula come auditori, anche alcuni cittadini che non hanno potuto prendere la parola come da regolamento, per loro però l'appuntamento è stato dato in occasione del Consiglio Grande, sempre sul Misa, che si terrà nel mese di maggio. Scabbia alla scuola d'infanzia, piazza SAF in centro storico ed epatite A alla materna girotondo della Cesanella. Ed è proprio questo il caso che desta maggiore preoccupazione anche se la situazione è sotto controllo. Ieri i genitori si sono spaventati appena ricevuta la comunicazione del vaccino consigliato. Il passaparola incontrollato aveva diffuso notizie non veritiere a proposito del ricovero di un bimbo, ma l'Asur rassicura che non si è verificato alcun ricovero. L'epatite A, scrive il Corriere Adriatico, si può prendere tramite alimenti contaminati, come sarebbe accaduto in questo caso, soprattutto mangiando pesce crudo oppure uova. È stato notificato un caso di epatite A nella scuola girotondo, ha confermato Daniela Cimini, responsabile del servizio Prevenzione e Sorveglianza Malattie Infettive e Cronico-Degenerative, ed è stata consigliata la vaccinazione per i bambini e per gli adulti. Nella seduta di martedì, la Giunta Comunale di Senigallia ha approvato la proposta di project financing relativa al servizio di gestione del centro sportivo delle saline di Senigallia e i relativi lavori accessori di qualificazione presentati dalla WISP. In particolare, gli impianti interessati saranno la piscina, il patinodromo, i campi da tennis e la pista di atletica. La delibera approvata a seguito dell'esito positivo, dato dalla verifica della coerenza e della completezza del quadro economico della proposta, costituisce il primo passaggio necessario all'avvio dell'iter amministrativo, che si concluderà con una procedura di gara europea. Un 25enne è stato ricoverato nel reparto di rianimazione martedì pomeriggio per una polmonite a Senigallia. Il giovane da diversi giorni stava male, sembrava un'influenza che non ne voleva proprio sapere di andarsene. Poi, invece, all'ultimo controllo, il verdetto, polmonite. Il giovane è stato subito trasferito in rianimazione e nel corso della notte è stato sedato. Nuove regole di tutela della privacy, le imprese si aggiornano con la Confartigianato. Giovedì 19 aprile a Senigallia alle 21, presso la sede associativa in via Chiostergi 10, si terrà un incontro informativo per fare il punto su cosa cambia per le aziende alla luce delle nuove norme in materia di privacy che scatteranno dal prossimo 25 maggio. E Claudio Albonetti, albergatore di Senigallia e vicepresidente di Confesercenti Marchi, il nuovo presidente di Asso Hotel Nazionale, l'associazione degli albergatori italiani iscritti alla Confesercenti. È stato eletto ieri a Roma a conclusione dell'Assemblea elettiva nazionale. Maxi tamponamento quello che si è verificato mercoledì pomeriggio lungo la provinciale corinaldese. Coinvolti nell'incidente è avvenuto all'altezza di passo Ripe di Trecastelli ben cinque veicoli, tra cui una minicarra. In totale le persone coinvolte, che erano a bordo dei mezzi, sono state dodici. Di queste cinque hanno riportato fortunatamente ferite lievi, ma tra loro c'è anche un bambino. Tutti e cinque i feriti, provenienti da Trecastelli, Corinaldo e Castelcolonna, sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia. Si terrà da giovedì 19 a sabato 21 aprile, presso il Teatro Goldoni di Corinaldo, il convegno Medioevo 2.0, la gestione delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria. Il corso si rivolge a medici legali, medici in formazione, dottorandi di ricerca, infermieri e biologi. Sabato 21 aprile alle 21.15, nella chiesa Madonna del Rosario di Passo Ripe di Trecastelli, verrà portato in scena il recital di poetica dantesca fino all'ultimo del Paradiso, con Gianluca Ricciotti, Davide Ricciotti e Daniele Barigelli. Lo spettacolo sarà eseguito in occasione dei festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della fondazione della parrocchia Madonna del Rosario di Passo Ripe, che si terranno il 21 e 22 aprile. Saranno cinque giorni di puro divertimento a Corinaldo da sabato 21 a mercoledì 25 aprile, il tutto ad ingresso libero e gratuito. I pomeriggi saranno scanditi a ritmo delle street bands, dalla Toscana degli Archimossi alla street band Treia, quindi agli spettacoli itineranti del gruppo storico con Busta Revixi, con sbandieratori e musici. Stiamo parlando dello spettacolo della festa di Folli, che si concluderà proprio il 25 aprile con musica e parole. Ci sarà il ritiro della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici, che come sapete è a sede a Corinaldo. Due giorni di ritiro, ragazzi sono 110 provenienti da tutta Italia, dal Piemonte fino alla Sicilia, che vengono a Corinaldo due giorni a fare il ritiro, preparazione per i spettacoli che poi portano all'estero in altre manifestazioni. Artisti di strada presenti, da collaborazioni ormai che facciamo con gli artisti che appartengono al circuito del Circo di Soleil e poi verranno i circondati, che sono degli artisti qui di zona. La domenica avremo il zucchero, il sugar fornaciale di tributo e poi abbiamo musica anni Ottanta. Gli artisti di strada che vengono da Lucca, da Siena scusate, i archimossi, musica classica in formato street band. Il lunedì, che per esempio è il 23 aprile, una giornata intermedia dal ponte del fine settimana a quella del 25 aprile, la dedichiamo al dialetto, alla cultura del dialetto. perché la festa dei folli, come avete visto nei precedenti comunicati che abbiamo mandato, è anche cultura, soprattutto cultura, è una serata dialettale, dove la gente di Senigallia, la Senigallia Blues Band e il gruppo 1 e 3 di Corinaldo, quel gruppo di lettura, presenteranno dei sketch sempre ironici, divertenti, con la musica dedicata al dialetto del nostro territorio. Tutte le informazioni sul portale web www.festadeifolli.it Ed è tutto per questa edizione da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.